rasoio di sicurezza mule r41 andiamo di unboxing vediamo cosa si riserva questa giornata ok così occhio direi che è un altro rasoio diamo la scatolina e qui ci dice che cos'è molto in piccolo ma ci dice una sigla che per molti è già tutto un programma mule r41 lo squalo questa volta ho preso con il manico versione chrome normale quindi bellissimo il rasoio per eccellenza più aggressivo o meglio qui ci sono pareri diciamo contrastanti perché non è proprio una vera guardia aperta ma ha una sua struttura e una geometria della testa e del pettine particolari in modo da andare subito in giù questo almeno sono le spiegazioni che ho sentito dai più esperti e di esporre la lama in modo anche minimo ma molto molto efficace fatto sempre benissimo poi lo guarderemo più nel dettaglio da vicino vediamo se nella confezione c'è qualcos'altro c'è una lametta per chi ancora non l'avesse fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanellina per ricevere le notifiche fidiamo ci diranno di stare attenti e questa è chiaramente una lametta della mule nelle descrizioni sotto al video vi lascio il link dove potete trovare questo rasoio e adesso lo andiamo a vedere un po più da vicino ok andiamo ora a vederlo bene da vicino sempre cromature spettacolari la scritta mule sulla base questa lavorazione comunque veramente ben fatta precisa splendida esteticamente io devo dire avendo provato l'r 89 non ho trovato particolarmente scivoloso il manico anzi ha un grip certo non non strato sferico ma comunque non scivola basta tenerlo bene e qui vediamo la caratteristica dell'r 41 questa sua testa incredibile questo modo di gestire la lama con questo pettine e sotto c'è questo ampio queste ampie fessure che permettono anche una perfetta pulizia della lametta spero ora di non sporcarlo troppo con le mani veramente favoloso lunghezza di tutto il rasoio la vediamo con un righello anche se già la so comunque tanto per darvi un'idea 94 qui non so se si riesce a far vedere proprio in modo preciso comunque i dati parlano di 94 millimetri ovvero 9 centimetri e mezzo dai tanto per andare la larghezza della testa dovrebbe essere 43 la verifichiamo ci siamo ora non so se riesco metterlo proprio preciso comunque 42 43 millimetri poco più di 4 centimetri e spiccioli e il peso il peso io non ho una bilancia mi affido alle diverse pesate che ho trovato sul sito di un venditore online l'ho trovato come 64 grammi ho visto che in altre recensioni c'è chi lo ha pesato nelle sue diverse parti per poi ritrovarsi un totale di 69 70 grammi più o meno il peso del manico e della testa quasi si equivalgono è molto ben bilanciato un peso non eccessivo esiste in una versione con un manico più grande ma forse per me vorrei con un manico anche più piccolo di questo io veramente mi sono trovato benissimo con l'edwin jagger kelvin che tra testa e il manico è 83 mm diciamo che se anche andasse sotto i 9 cm io sarei ancora più contento comunque se l'hanno fatto così avranno avuto le loro buone ragioni i loro studi ora andiamo ad aprirlo togliamo il manico ci siamo vediamo la misura del manico da solo ok 8 e 7 così occhio direi e poi qui abbiamo la testa con bellissima qui c'è un numero 5 di cui si ignora totalmente il significato ma anche questo sicuramente ce l'avrà e questo appunto il pettine molto particolare molto grandi le feritoie per pulire la lama quindi questo l'indice di una estrema facilità della pulizia durante la fase di rasatura vediamo che i dentelli non è proprio come dire aperto ma non è neanche chiuso viene comunque considerato un pettine aperto perché per il modo in cui gestisce la lama è estremamente efficace e non è per principianti come il sottoscritto quindi prima di andarlo a a provare passerà qualche mese mi sa è ora tanto per darvi una ulteriore idea vado a prendere una lametta eccomi qua sono già tornato ho preso la lametta che ho utilizzato nell'ultima la natura è una persona andiamo a inserirla vediamo poi come appare il rasoio armato lo squalo armato vediamo che sporge pochissimo di lato qui addirittura da questo lato anche meno rispetto a quest'altro questo probabilmente dipende anche o forse uguale faccio fatica a ben comprendere intanto l'abbiamo già sporcata gli diamo una pulitina vedete proprio la lama sporge poco ma siccome i pettini i dentini sono veramente proteggono il minimo indispensabile come chi l'ha provato ha tenuto a precisare bisogna usarlo con estrema delicatezza e cautela di certo è non è adatto ai principianti molto 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 bello una struttura profonde impressione che ecco così mi pare più diritto la lama forse anche una questione di come arriva la luce sul rasoio molto 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 bello poi tra qualche mese quando lo proverò quando avrò il coraggio devo ancora provare le lamette feather quindi prima devo trovare il coraggio per quelle poi dicevo vi saprò dire per ora ci accontentiamo di ammirarlo e come sempre vi lascio i link dove potete trovare questo rasoio nelle descrizioni sotto al video ok dai adesso smontiamo la lama e lo rimettiamo a posto questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati guarda altri video ce ne sono di vari generi arriveranno altri video ciao alla prossima